abbiamo visto precedentemente come l'uso delle immagini sia straordinario per trasmettere messaggi sui supporti visivi altrettanto efficace però è l'uso dei video soprattutto quando vogliamo mostrare le cose così come sono pensiamo ad esempio ad un documentario nulla come il video ci fa vedere come un animale vive o come reagisce ad una certa situazione e ovviamente noi possiamo utilizzare i video se siamo dei naturalisti ma anche degli scienziati in una presentazione tecnica ma anche nel mondo degli affari possiamo mostrare i nostri prodotti come vengono realizzati magari partendo dalla materia prima piuttosto che un processo come funziona e come si evolve e poi politici ma in realtà chiunque può utilizzare i video per comunicare storie che sono sempre uno dei modi più efficaci per trasmettere un messaggio al nostro pubblico.